I carabinieri forestali hanno fermato questa mattina all'alba due stranieri, un lituano e un serbo. Quest'ultimo, domiciliato a Iesi, è stato trovato in possesso di 21.000 euro importati dall'estero e 16 timbri falsi usati per contraffare i documenti di trasporto dei mezzi. I due infatti sono coinvolti in un traffico di veicoli che dalla Vallesina partivano per entrare nei Balcani. L'operazione, nei confronti dei due uomini, è scattata oggi ma l'indagine era in corso da un anno e mezzo. Salgono a 23 quindi le persone indagate, tra cui titolari e dipendenti di agenzie di pratiche auto e concessionarie. Tutti sono stati denunciati a diverso titolo per reati di truffa, falso documentale, gestione e combustione illecita di rifiuti.